buongiorno benvenuti a una nuova puntata di dr penis oggi siamo con gaetano a quasi 63 anni a gennaio compie 63 anni ha effettuato un anno fa un impianto di protesi peniene idraulica tricomponente è arrivato alla nostra attenzione perché aveva il pene completamente piegato a 90 gradi e non aveva più nessuna possibilità di avere un rapporto sessuale normale e soddisfacente a distanza di un anno gaetano è qui per testimoniarci la sua esperienza gaetano come stai bene benissimo rispetto a prima è cambiato tutto completamente il pene funziona c'è la funzionalità completa come era come dove come deve essere quindi da tutti i punti di vista sono soddisfatto del piacere e della funzionalità il pene dritto è dritto completamente senza problemi perché il mio non mi dava assolutamente prima dell'operazione non avevo nessuna possibilità di avere rapporti quanto era piegato il pene a 90 gradi a sinistra e in alto c'era due una piegatura doppia praticamente ok senti l'intervento come è stato tecnicamente cioè che cosa sentire sentito molto fastidio assolutamente chiaramente fastidio dico con una battuta il fastidio più grande è la puntura lombare a me forse mi darà più fastidio di tutti ma poi l'anestesia l'anestesia sì poi per il resto non c'è stato nessun 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 fastidio chiaramente l'inconveniente delle operazioni che fastidio momentaneo del giorno dell'operazione nel giorno successivo dopo di che finito tutto ti accorgi di avere una protesi oppure è una cosa è allora nella normalità assolutamente non ho nessuna sensazione di avere la protesi chiaramente avendo ce la lo so la l'attivo la metto in funzione per cui sono cosciente di avere una protesi ma assolutamente non mi da nessun fastidio e nessun ingombro nessun niente come se non ci avessi come prima le due donne che dicono soddisfatte soddisfatte nella posizione una particolare posizione io sotto lei sopra praticamente non vuole mai scendere che sei divino un pochettino chi la sente sta cosa nessuno chi la sente un milione di persone va bene ok perfetto io spero che tu sia contento che faresti assolutamente sì perché è cambiato completamente lo stato in cui stavo sono pienamente soddisfatto bene ok bene questa era la testimonianza di caetano vi invito a mandare le vostre domande all'indirizzo in sovraimpressione e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di dr penis